Io vedo che quando esageriamo con la ricerca di risposte di tipo mentale ci arrovelliamo e in realtà ci allontaniamo dalla felicità, mentre invece alle volte quando lasciamo andare questa ricerca di risposte a tutti i costi che soddisfino la mente razionale ci ritroviamo poi a sentire, ci colleghiamo di più col nostro sentire, quando siamo collegati col sentire alla fine stiamo meglio. Ovviamente non è così semplice essere sempre collegati col nostro sentire perché viviamo comunque in una società dove ci viene richiesto di comunicare, di parlare, di leggere, di scrivere, di lavorare e io sono tra i fautori della mente razionale, cioè sono una persona che pensa che dovremmo ringraziare ogni giorno per avere questa mente così attiva, che si preoccupa di tutto, che ci pone tutte le questioni, che ci mette di fronte a un futuro, al nostro futuro, immaginandolo anche nelle sue versioni peggiori per farci reagire, per farci capire cosa possiamo fare. Però è chiaro che quando noi ci identifichiamo esageratamente con la mente razionale e pensiamo di essere la nostra mente razionale, lì cominciano i dolori. E quindi vi volevo parlare un po' di come l'astrologia ci aiuta in questa direzione, nel staccarci dall'identificazione eccessiva con la nostra mente, con il nostro ego e come imparare ad affidarci invece al vero padrone, come diceva Einstein. Einstein mi piacerebbe citarlo, diceva delle frasi che per me sono state illuminanti e siccome non è uno spiritualista o uno scienziato, le uso moltissimo con le persone che mi dicono di non credere in queste cose di cui io invece sono completa, a cui sono io completamente dedicata. E in particolare ce ne sono due. La prima è riguardo a questo concetto sulla mente, diceva tante cose, però quello che mi ricordo sono queste frasi. Diceva che la nostra società, pensate lui era più di cento anni fa, ha cominciato a rovinarsi quando abbiamo dato troppo potere alla mente, alla razionalità e non ci siamo resi conto che la mente, la razionalità è la serva e deve rispondere a un padrone che sta molto più in alto. Senza dire la parola anima si riferiva però proprio all'anima e quindi diceva abbiamo dato potere al servo e non ascoltiamo più il padrone. Quindi è importante ricordarci anche noi, perché spesso la vita ci porta a vivere nelle cose che facciamo nei nostri pensieri, ricordarci che questa mente, per quanto importante, ha un padrone a cui deve chiedere prima di decidere di fare. E se noi ci immaginiamo di essere l'anima, anche se non è necessario sapere esattamente cosa è l'anima, vedete anche tutte queste domande, ma cosa è l'anima, ma come la trovo, ma sono tutti problemi molto mentali. Non c'è bisogno di saperlo, noi immaginiamo di esserlo e solo il fatto che immaginiamo di esserlo ci pone nella condizione di esserlo, perché funziona così, la nostra immaginazione reale non è qualcosa di finto. E quindi quello che Einstein diceva era diamo potere al padrone, il vero padrone è l'anima e aveva proprio chiarito che anche tutte le sue scoperte, il fatto di essere uno scienziato che aveva rivoluzionato il mondo della fisica derivava dal fatto che aveva ascoltato le sue intuizioni e se aveva avuto accesso a un campo superiore, aveva ricevuto delle informazioni che stavano nel campo e che non erano dentro la sua testa, quindi non era attraverso il ragionamento che aveva potuto sviluppare le sue famosissime teorie e cambiare il modo di vedere il mondo, ma era perché si era messo nell'ascolto di qualcosa di superiore. Comunque io credo molto nel nostro futuro che la grande rivoluzione arrivi proprio dagli scienziati, ma non dagli scienziati che si affidano alla mente razionale e che dicono che tutto ciò che non è spiegato non esiste o non ha senso, ma quelli che invece capiscono che per fare un salto in avanti dal punto di vista della scienza bisogna affidarsi allo spirito perché è da lì che arrivano le informazioni, le intuizioni e le indicazioni su come noi possiamo evolvere. Ci sono moltissimi scienziati in questa era che diventano spiritualisti e quindi è importante anche guardare un po' cosa hanno da dire. Questo lo dico perché ci sarà l'ingresso di Plutone in acquario molto presto e quindi praticamente ci parla di dare il potere alla scienza, alla tecnologia, lo vediamo, c'è sviluppo dell'intelligenza artificiale, ci sono tantissime cose che sono nell'aria che forse non hanno ancora completamente invaso la nostra vita, ma arriveranno molto rapidamente. Quindi prepariamoci a un'evoluzione gigantesca e l'unico modo per prepararsi è quello di aspettarsi cose belle, aspettarsi solo che arrivino cose belle.